Piam sta per progetto di integrazione e accoglienza migranti, è un'associazione ONLUS che è nata nel 2000. Abbiamo iniziato occupandoci di tratte e prostituzione, donne vittime di sfruttamento sessuale, ragazze che normalmente si vedono sulla strada, nigeriane, albanesi, rumene. Abbiamo aperto così la prima casa d'accoglienza per donne vittime di tratte, abbiamo iniziato con donne nigeriane, poi donne albanesi, rumene, moldave, tailandesi e via dicendo. Nel tempo questa attività è cresciuta molto e da una piccola casa abbiamo strutturato dei progetti, facciamo parte della rete antitrata nazionale, facciamo unità di strada, usciamo, andiamo per strada, contattiamo le donne, diamo le loro informazioni sociosanitarie, accompagniamo a fare gli screening medici e poi c'è tutta la parte di sgancio e dallo sfruttamento, le case protette, le case di fuga, il riconoscimento dei documenti, l'accompagnamento verso l'autonomia e via. Siamo stati anche a fare questa attività per 5 anni in Nigeria, anche perché lo staff e l'equip antitrata che abbiamo è composto al 80% da ex vittime di tratta che sono diventate operatrici e lavorano nei progetti e si prendono cuore di altre donne. 3 di queste sono nigeriane, perciò è stato anche abbastanza facile e naturale andare poi dopo in Nigeria a riproporre questo tipo di attività che facevamo qua nei bordelli di Benin City, di Lagos e di altre cose. E poi l'accoglienza è andata avanti e nel 2014 sono stati grandi sbarchi di profughi e rifugiati, noi avevamo già 3-4 anni che avevamo iniziato a lavorare sull'accoglienza anche di richiedenti asilo, rifugiati, il sistema SPRAL e da lì c'è stato proprio un cambio di salto, ma non dovuto da noi, perché gli eventi, le situazioni, la politica, i fenomeni sociali di quegli anni sono esplosi e noi dovevamo in qualche maniera dare una risposta, siamo stati chiamati a dare una risposta anche all'accoglienza. Abbiamo iniziato a strutturare progetti di accoglienza SPRAL molto più ampi, uno in comune di Astia, circa 70 persone, poi abbiamo una rete di piccola accoglienza diffusa in comuni del nord d'Astigiano, sono 45 persone distribuite su 5 piccoli comuni e poi l'accoglienza di per sé ha generato altre attività e che una è stata sicuramente il fatto di contribuire un po' allo sviluppo locale delle nostre comunità, utilizzare, inserire l'accoglienza nel contesto sociale dove si trovava e lavorare al bene comune, allo sviluppo sociale, tutti insieme, compresi i migranti, gli operatori di accoglienza e i territori che accoglievano. Il primo passaggio è stato quello di recuperare Villa Quaglina, Villa Quaglina è una villa storica, una villa padronale del 600, molto bella, alle porte di Asti, che era stata donata da una famiglia nobiliare a una congregazione di preti qua locale, i obblati di San Giuseppe, e per anni è stata la casa madre, perciò parliamo di un palazzo molto bello, una grande villa con 6 ettari di terreno, un giardino, proprio una bella, bella struttura. Negli anni è stata progressivamente abbandonata perché gli obblati sono spostati in città, quella era una struttura molto impegnativa e negli ultimi 12 anni era rimasta chiusa. Quando nel 2014 a maggio inizia, ci arriva l'annuncio che ci sarebbero stati l'arrivo di ultimi errori, 55-60 rifugiati che sbarcavano a Pozzallo, venivano subito messi sui pullman e portati direttamente nelle varie città, fra cui Asti, Nord Italia, perciò... e allora uno di questi responsabili dell'obblati alza la mano e dice ma c'è un casale che potremmo vedere di dare a disposizione per l'emergenza e quel casale a Villa Quaglina aveva i requisiti minimi per quella situazione, cioè che aveva ancora l'impianto elettrico funzionante e l'acqua corrente. Allora siamo andati, l'abbiamo visto, era abbandonato, però è arrivata la protezione civile, ha buttato le tende, le brande da campo, l'abbiamo pulita in fretta e furia, ha montato una cucina da campo veloce, è arrivato il primo pullman, erano quasi tutti siriani, qualche ritrovo e da lì non siamo più andati via. Noi li chiamavamo sbarchi, anche se poi dopo scendevano dal pullman, ma i ragazzi e le ragazze avevano ancora le ciabatte, le infadito, le canottiere, erano ancora sporchi di sale, erano proprio situazioni di emergenza. Mi ricordo eravamo in un tavolo in prefettura, la mattina era annunciato questo arrivo di 55-60 persone, le strutture che avevamo all'epoca già adibito all'accoglienza erano piene, prefetto, sindaco, caritas, volontariato e noi come gestori d'accoglienza, come reti di associazioni, come cooperativa sociale, eravamo lì e si dice facciamo una tendopoli allo stadio. Io in particolare, ma anche altri, mi hanno detto no, a Tendopoli no, perché prima questa città non si merita una tendopoli e chi arriva non si merita una tendopoli, indecoroso. Sicuramente saremmo capaci di trovare soluzioni migliori e importante questo passaggio secondo me che non è solamente l'accoglienza che tu devi dare a chi arriva, è anche un rispetto nostro come comunità accogliente. Non è bello che nella tua città tu attrezioni a Tendopoli perché non sei capace di dare vite alloggio a 50 persone, noi ci meritiamo di più come comunità nostra accogliente e di default questo deve essere un beneficio anche per chi ha accolto. Si pensa che l'accoglienza è bidirezionale, al quale un processo unidirezionale non funziona. O dai o chiedi, invece le cose si fanno insieme. Abbiamo ristrutturato la villa con l'aiuto anche dei ragazzi che hanno fatto formazione, sono stati pagati per lavorare, per ristrutturare. Quell'anno in quel posto sono passate 640 persone perché è diventato la provinciale, perciò da un posto disabitato è diventato un centro di vita molto grosso, abbiamo assunto personale, abbiamo fatto iniziative e fra le cose più belle che abbiamo fatto è sicuramente che abbiamo poi recuperato l'utilizzo originario dell'area che era un'azienda agricola, abbiamo iniziato a coltivare la terra, abbiamo recuperato un vigneto storico e soprattutto abbiamo piantato il mai sottofile che è la qualità, quella storica, super mitica, della migliore varietà di mais qua del Nord Ovest che nessuno più fa per Capo Caresa e siamo diventati fra i più importanti produttori di mai sottofile adesso. Abbiamo anche fatto dei prodotti, poi dopo di fare i coni grani, farne antiche, lo vendiamo e non da reddito ma siamo diventati un piccolo presidio delle tradizioni locali tramite la migrazione, uno che arriva dal Maglio, dal Gambio, dalla Nigeria, quello che ti permette di sostenere è un prodotto tipico primontese. Poi abbiamo fatto feste, ho presentato io sto con la sposa, abbiamo ospitato una serata con Pippo Del Bono di teatro che poi è stato da noi, ha fatto un film che è andato sul Carper del Festival di Venezia raccontando l'accoglienza, ci sono sviluppate molte cose e nel tempo anche poi nei piccoli paesini in cui abbiamo lavorato, in cui abbiamo le altre accoglienze più piccole ma molto radicate nel territorio, abbiamo sempre ragionato su come contestualizzare la nostra presenza nei territori e la chiave è questa che le migrazioni, grazie anche all'accoglienza possono essere, anzi sono sicuramente un processo generativo di sviluppo locale, questo l'abbiamo capito e questo è lì in cui ci muoviamo, perciò non ragioniamo neanche più tanto di accoglienza ma quanto di sviluppo locale, la nostra funzione è quella di capire gli sviluppi, i bisogni del territorio, interfacciarli con i bisogni e le risorse che porta l'accoglienza, con questo pensare qualcosa di diverso, allora poi dopo abbiamo aperto anche delle case madre e bambino per prendersi cura delle donne migranti con figli che a loro volta sostengono e collaborano con i baby parking, le scuole del territorio, abbiamo iniziato soprattutto nei paesi con i ragazzi accolti dell'accoglienza, collaborare con le amministrazioni locali per la messa in sicurezza al territorio, la manutenzione stradale, la pulizia e via dicendo, da questo discorso qua è venuto fuori anche una bella parte di ridare vite, manutenzione a tutta la sentieristica bella che c'è nei nostri boschi, abbiamo ragionato con 15 comuni, abbiamo creato questo progetto 8 che sono 96 km di sentieri nei boschi e nelle strade che abbiamo mappato e stiamo ripulendo grazie anche al lavoro dei rifugiati ed è qualcosa che è da sviluppo locale, perché la sentieristica porta turismo, comunque benessere ed è fruibile a tutti e non è legata alla migrazione. Ultimamente stiamo lavorando molto sull'educazione ambientale perché anche lì, come era successo in Passo Team Villa Qualdina, nel comune di Castellero c'era un bello spazio ma abbandonato, che era un lago di vitola pesca sportiva in bel palco con anche una stalla con 15 asini ed era quasi in abbandono. Il sindaco ci ha chiesto di occuparcene, l'abbiamo preso, era rilevata e adesso lì facciamo attività con gli asini, pet therapy, circo di pesca sportiva e un bel palco per fare educazione ambientale. Dove lavorano anche i ragazzi dell'accoglienza ma non solo e l'accoglienza non è più il centro di quello che facciamo ma è qualcosa che ha permesso anche di spostarsi su altre aree. Il focus è, noi lavoriamo su un territorio per lo sviluppo locale o per il bene comune. E chi c'è c'è, chi c'è fa. Se in quel momento c'è una ragazza nigeriana, una molgava, un somalo o un anziano italiano o una maestra o un gruppo di mamme non importa, è ovvio che in questo contesto le immigrazioni se ben contestualizzate sono un supporto in più, è una risorsa perché tu non è che vai, si pensa sempre a una logica predatoria rispetto all'immigrazione. vengono qua a portarci via il lavoro, i soldi e via dicendo. Non è vero su questa roba qua. Qua non si porta via niente, qui arriva qualcosa sul territorio e visto che allora c'è qualcosa invece di tenerlo separato dobbiamo pensare di metterlo al sistema e far sì che ci sia una gamba in più nel tavolo di sviluppo locale che ti sorregge. Questa gamba in più potrebbe essere l'immigrazione. E bisogna anche iniziare a cambiare il tipo di narrazione. Cioè, quali sono i bisogni del nostro territorio? Primo, di tutti. Quali sono le risposte e le risorse che ci sono? Magari non c'è niente, magari invece c'è una risposta ma la risorsa la trovi nell'immigrazione. Se non c'è quella non è la risposta e non contribuisce su quel territorio del bene comune. È proprio semplice. Iniziamo a fare accoglienza nei piccoli paesi nel 2011. Comune di Settime, 600 abitanti, alle porte di Asti, popolazione più di 65 anni, come tutti i nostri comuni spopolati, seconde case ma pochi residenti. La scuola tenuta in maniera capabilmente aperta dal sindaco ma non ci sono bambini. Tramite lo SPAR decidiamo che quel comune lì, come è stato già Riace ai tempi di quando Lucano è iniziato, aderisce all'accoglienza SPAR, parliamo col Ministero di mandare delle famiglie con bambini, arrivano tre famiglie con nove figli, automaticamente la scuola raggiunge il numero di 25, tu non hai fatto accoglienza, tu hai salvato una scuola di comunità per tutti quanti, grazie all'accoglienza. Non è che hai speso soldi per dare istruzione, non è che hai mantenuto nove bambini, li hai mandati a scuola gratis, no, su quei nove bambini e quell'inserimento dell'immigrazione in contesto localato sì che ancora adesso ci sia la scuola aperta. Ti dirò di più, in un piccolo paese dove le strade sono ben mantenute perché magari il cantoniere è uno dei ragazzi ospitati che nel periodo di accoglienza viene assunto dal comune pagato e però il comune ha uno in più pagato dal Ministero degli Interni, perciò non sulle tasse dei locali, che fa la manutenzione interruttiva, le strade sono pulite, i fossi, l'acqua reggimenta bene, non ci sono micofane, smottamenti, tutte le cose più, cade un albero e la strada è aperta e non chiusa, tutte quelle più cose, il paese si apprezza e diventa più appetibile magari di quello di fianco non c'è nessuno, in più quel paese lì magari ha ancora la scuola aperta o la bottega non è chiusa perché hai 30-40 persone in più, cosa vuol dire? Che chi ha una casa lì o la fitta o la vende su quel territorio proprio perché lì è arrivata l'accoglienza, non dico che si è apprezzato, ma almeno si è mantenuto il valore immobiliare delle case, gli altri paesi sono vecchi, spopolati, distrutti, la cosa si va a perdere, perciò l'accoglienza non sta togliendo niente e si è gestita bene, è proprio una prova che nella peggiore delle ipotesi mantiene l'esistente e non lo, ma se ben gestita dà anche qualcosa in più, le case d'accoglienza le abbiamo in provincia di Asti, poi sulla questione della tratta lavoriamo a livello nazionale, a volte anche trasnazionale fra progetti e reti perché abbiamo veramente una grande esperienza, abbiamo alcuni operatori e colleghi che sono arrivati anche a, non so, per dire non so, la Pontificia Accademia di Scienze Sociali sovente ci chiama come consulenti sulla tratta, mentre invece per quanto riguarda la parte invece dell'accoglienza, facciamo parte dello SPAR che è una rete nazionale, ma lavoriamo in provincia di Asti e poi stiamo in diversi tavoli, non so, il forum di diseguaglianze, diversità di diseguaglianze, poi non so, il forum dell'area interna e via dicendo, si collabora Poi non so, il forum dell'area interna e collaborate facendo vedere le infatti, quello dell'area interna abbiamo imparato molto anche dal forum dell'area interna perché stando in quei contesti lì abbiamo capito meglio quello che magari stavamo facendo come potrebbe essere addirittura più sistematizzato o capirlo, ma il confronto con le altre realtà è stato fondamentale perché si imparano tante cose Noi lavoriamo a bandi, più che collaborazioni ci sono i bandi partecipi, abbiamo sempre vinto per fortuna, il nostro committente è la pubblica amministrazione, lavoriamo al 90% di fondi pubblici o delle amministrazioni interni o comunque delle amministrazioni locali e ci manteniamo con quello Allora, noi sulla tratta tendenzialmente siamo, vabbè, innanzitutto sono metà anni di esperienza metà anni di esperienza ti fanno, in qualsiasi cosa, bisogna solo il fatto di avere avuto continuità di operatori e con conoscenza del fenomeno questa è tanta esperienza, poi abbiamo iniziato, ti dicevo, nel 2000 eravamo in quattro, eravamo due operatori maschi e due operatrici donne, erano un albanese, poi eravamo arrivato una moldava e una nigeriana, che erano ragazzi che venivano dalla strada, perciò c'è questo valore aggiunto di avere la peer education poi è andata avanti, hai dei saperi che non devi studiare e formarti, si è partiti subito con una marcia in più, perché chi lavora sulla tratta ha gente che veniva da quel contesto lì e magari non conoscerà bene il contesto normativo italiano, ma quello ci pensavamo noi, ma il fenomeno, le dinamiche, i linguaggi, le paure, le soluzioni, tutto il contesto quello c'era già innato e quello c'era dato la possibilità di avere, soprattutto nei primi anni, delle comunità che funzionavano con molta efficienza, si trovano risposte più facilmente che d'altro e allora questo ci ha portato anche a andare a fare i formatori in altre realtà e questo ci ha creato un po' così, ci ha fatto crescere, quello è un settore in cui ancora adesso continuiamo a formarci, andare avanti e siamo interpellati anche a livello di policy perché sono stati chiamati anche a collaborare alla redazione del piano nazionale antitratta che è il documento programmatico triennale del ministro interno, su quello abbiamo dei saperi, su come è cambiato il fenomeno, su cosa sono le difficoltà, le difficoltà sono sempre queste, il grave sfruttamento, la riduzione di schiavitù, quello non cambia mai, sono cambiate magari i modi ma purtroppo non è cambiata la condizione di base, la gente scappa per miseria e quando scappa tendenzialmente è un po' disposto a tutto e in quel punto il primo gradino del tutto è lo sfruttamento, sempre, mai niente gratuito, regalato e dato, c'è sempre qualcuno, qualcosa che ti porta a sfruttamento, poi da sfruttamento in poi ci sono tutti quanti i processi di sgancio fino ad arrivare ai percorsi di autonomia, ma fondamentalmente riduzione in schiavitù era, riduzione in schiavitù è rimasta, da lì non si scappa, forse c'è meno violenza, infatti sono qua, non so i numeri delle donne ammazzate sulle strade rispetto agli altri anni, sono 20 anni fa, c'è sparatorie sulle strade, ragazze molte, questa è anche una questione che è cambiata molto anche perché è iniziata ad esserci anche molto più interesse da parte delle forze dell'ordine, perciò è diventato sempre anche più pericoloso per i trafficanti e i maniaci, comunque sono più tracciati, monitorati, si è abbassato la soglia di violenza, le forme di sfruttamento però sono tantissime, anche più le minacce magari sono nei paesi d'origine, sono psicologiche di varia cosa, il problema è la povertà, quando tu hai di tanta gente povera e senza futuro e un bel network organizzato che sa venderti ma porti effettivamente l'ipotesi che tu ce la puoi fare, tu vieni a me e io ti porto in Europa e troverai lavoro e soldi perché poi i trafficanti è gente che ha fatto quello dieci anni fa, non è che sono nati i trafficanti, no? Allora uno dice ma se ce l'ha fatto lui o se ce l'ha fatto quella donna ce la posso fare anch'io e poi quando si arriva qua si trova invece nelle... in questo meccanismo perverso dello sfruttamento che è anche vero che però nel momento in cui uno smette di essere sfruttato puoi diventare a sua volta un sfruttatore perciò diventare ricco è quella persona che ti ha ingaggiato, cioè è un circolo perverso, è un franchising questo eh, qua arrivi io ti porto, mi paghi il debito, ho pagato bene il debito, io ti inserisco nel circuito, a quella volta sarai tu che venderai questo pacco a qualcun altro che poi venderà il pacco un'altra volta e quella roba lì non... cioè alla fine c'è tante tante chiacchere, tante chiacchere, qua il problema che c'è, poveri poveri ha assenza di futuro, quando sei in quella condizione lì rischi tutto, nel rischi tutto come dicevo prima c'è sempre qualcuno che ne approfitta e ti inserisci nella catena di sfruttamento, è proprio lineare, non c'è bisogno di fatto per discorso intorno. Quello che è cambiato molto è che io, prendiamo ad esempio la mafia nigeriana che è quella che io conosco meglio, è negli ultimi trent'anni e qua in Europa è diventata una mafia vera e propria, cioè il ministero interno dopo le quattro italiane l'unica straniera riconosciuta come mafia, quanto non bis, è quella nigeriana, perciò una volta vent'anni fa c'era la madame cattiva che picchiava la ragazza e la prendeva sberlone e manda sulla strada, adesso è un network che non sai neanche più chi è questa madame, e sei dentro una oceana di mafia, sono molto più ristrutturate, tant'è vero che adesso quando si indaga sul traffico di esseri umani, la direzione universitativi dirà antimafia, non è più il comando locale carabinieri, è proprio cambiata quella dimensione. Dal punto di vista progettualità, quello che stiamo facendo ormai sistematicamente da 3-4 anni non è tanto la conduzione di terreni agricoli quanto la formazione in agricoltura, è tutta una serie di attività anche di contatto, di match in informazioni così legati un pochettino al contrasto a capolato e lo sfruttamento. Cosa vuol dire? Che i ragazzi stanno in accoglienza, facciamo tanta formazione e tanta di queste in agricoltura, saper potare, saper condurre la vigna, saper lavorare in un altro, con gli enti di formazione o anche all'interno delle nostre strutture. Ma comunque c'è una formazione certificata, standardizzata, non mandiamo la gente a lavorare e basta, non c'è un percorso alla fine. Quando vai a lavorare in agricoltura hai già delle competenze, hai anche già, ti faccio un esempio, se lavori in campagna ad esempio anche avere il patentino, la certificazione che puoi usare ai piccoli motori a scoppio, di cespugliatore, motosega, cioè quello che quando vai a lavorare è quello, sei usarli, è più facile trovare lavoro, sei comunque competente. E poi tutto un discorso che facciamo con la CIA, che è la Confederazione Italiana dell'Agricoltura, con la sede qua di Asti, di fare un punto di formazione e incontro fra domande e offerte di mano d'opera in ambito agricolo, soprattutto durante il periodo della raccolta, che poi è la vendemia, in dinamiche pulite, con attualizzazione corretta e non con finte cooperative o situazioni di caporato, questo è quello che tendenzialmente facciamo. Per quanto riguarda le produzioni agricole abbiamo un vigneto sperimentale, che abbiamo recuperato il vecchio vigneto di Villa Qualina e abbiamo fatto questo vigneto didattico, produciamo pochissimo vino. La cosa buona è che abbiamo un accordo con il Penna, l'istituto agrario Penna, che anche gli studenti di questo istituto vengono nella nostra vigna insieme anche ai ragazzi rifugiati a fare scuola, perciò è diventato un vigneto didattico anche lì, l'abbiamo restituito alla cittadinanza, perché non è il vigneto dei profughi, le vigne ad Asti non ci sono più, le vigne sono lontane, questo è uno dei pochi vigneti ancora alle porte della città che noi abbiamo restituito a tutti gli studenti di Enologia. Poi l'altra parte interessante è quello del mai sottofile, che ormai coltiviamo da tanti anni, abbiamo fatto anche la conversione biologica dei terreni e nella rotazione mai sottofile per fare appunto la farina da Polenta, ma anche poi dopo grani antichi, il Senatore Bercappelli, il Verna, il Bologna, abbiamo fatto un giro anche di canapa, l'anno scorso girasoli, comunque sono grani antiche e mai sottofile quello che facciamo in maniera, le nostre poluzioni. Abbiamo un marchio che si chiamava ai Campini di Villa Quaglino, un sito web, vendiamo online, vendiamo qua ad Asti sicuramente ma non abbiamo punti distributivi, ma non sono poluzioni gigantesche, però il discorso non è tanto quello, dimostrare che l'accoglienza appunto non toglie ma mette e nel caso quello noi abbiamo i migliori ristoratori qua dell'Astigiano che vengono e prenotano la nostra farina perché è un prodotto d'eccellenza. Allora dall'accoglienza tu puoi fare delle cose di eccellenza e di lusso, se vuoi mangiare la meglio farina che c'è in questo periodo astigiano devi venire in un centro d'accoglienza profughi perché la coltivano e poi dicono lì, ma con dei livelli di standard altissimi, cioè si può fare, a me interessa più quello, lavorando seriamente facciamo qualcosa che non ti aspetti e andiamo sui tavoli i grandi chef con i prodotti di qualità. PIAB in questo momento sta dando l'accoglienza circa 170 persone, fra maschi singoli, nuclei monoparentali, madre con bambini, famiglie e donne ritenuncibili alla tratta. 170 persone sono un bel numero di persone, distribuite in appartamenti, in centri d'accoglienza, la Villa Qualina di cui parlavamo prima, che è la struttura più grande che abbiamo, tiene al massimo 45 persone, ma al resto noi siamo più per le piccole accoglienze, nuclei appartamenti 4, 5, 6, massimo 8, anche attrezzati per diverse tipologie, le case per donne e vittime di tratta hanno criteri di sicurezza diversi, anche di controllo. La casa madre e bambina è attrezzata per madre e bambina, in campagna, con un oltro, con un giardino, queste cose qua. Cosa vuol dire? Che per tenere in piedi questo sistema siamo 26, uno staff diviso per varie equipe e c'è ognuno che si occupa della formazione linguistica, quella formazione personale, lo psicologo, il mediatore, quello che invece fa il runner, quello che risolve le situazioni, il mediatore, gli amministratori. Perciò, ormai, rispetto alla formazione, abbiamo selezionato nel tempo dei partner, o delle agenzie formative, o dei professionisti, in cui con loro costruiamo i processi di formazione. L'azienda Ricolo, noi lavoriamo con un nostro amico, anche lui cooperante, socio, ma comunque un agricoltore vero, che fa quello di mestiere, che ha questa azienda, che lui l'ha chiamata Agricoltura Indigena, e niente, abbiamo affidato a lui la conduzione dei nostri campi, e lui fa, lavora, insegna, ma è un contadino, un agricoltore che lavora nelle nostre terre e condividiamo insieme tutto il progetto, ma non siamo noi che andiamo, io non vado sul trattore, neanche i miei colleghi. Facciamo tanta formazione in cucina, qua con Silvio Francese, un ristoratore molto importante di Asti, tre volte l'anno gli commissioniamo dei corsi di cucina, e le ragazze, soprattutto, vanno da lui, e lui gli insegna nel giro di due mesi a diventare un aiuto cuoco, pronto per andare a lavorare in ristorante, cioè non facciamo noi la formazione, ma organizziamo tutto quello che è il contorno, ci chiamiamo progetto di integrazione accoglienza migranti, se uno pensa a Salvini, se uno è proprio all'opposto, si è stati danneggiati tanto, perché non tanto come risorse economiche, perché in realtà non ci sono stati dei tagli, ma c'è stata una disattenzione da parte della governance politica al fenomeno migratorio, e questo sia stato un po' abbandonati a noi stessi, senza una direzione, senza un'attenzione, per conto cosa ha fatto questo? Il fatto che questo accanimento sulle migrazioni, così più dal punto di vista ideologico, dimenticandosi di cos'era veramente la migrazione, e sono entrati cani e porci, nessuno ha controllato, tutta la corruzione della mafia capitale in poi è figlia di quella retorica lì, se tu sputi contro qualcosa, lo disprezzi e lasci da parte, ma se ci sono i soldi, altri ci arrivano, perché poi i soldi non li hanno mai tolti, perché ci mangiavano tutti e soprattutto gli amici e gli amici, non l'hanno più controllato, io devo dire che nel sistema di acquidenza italiano, soprattutto in quello emergenziale, non tanto nello SPAR che devi fare il bando con i comuni, ma quello gestito direttamente il ministero dell'interno, i casi in emergenza, ci si è abbassato tantissimo il livello dei servizi, si è abbassato tantissimo il controllo, e poi la magistratura insegna che scandali, inchieste e processi per corruzione sono all'ordine del giorno, quello c'ha... è ovvio che poi dopo su questa cosa qua, esce fuori la notizia del giornale, che i ragazzi fanno la rivolta perché gli hanno tolto tutto, allora quelli fanno la rivolta che sono qua che cazzo vogliono, invece no, lo Stato spende 35 euro al giorno per i servizi di questi ragazzi, il gestore ne spende 8 se è in tasca 20, il ragazzo poi si incazza, però la colpa è il ragazzo che poi dopo fa la rivolta, nessuno se la prende con il gestore, quando poi prende il gestore avete visto quelle sono le cooperative che mangiano i soldi, cioè tutta questa ragazza, la ricaduta ti rende più difficile andare a... ma anche per quello che dicevo prima, che non bisogna più parlare di immigrazione, bisogna parlare di sviluppo locale, di quello che bisogna parlare, se parli di immigrazione troverai sempre qualcosa che non funziona, perché non è una cosa omogenea, cosa vuol dire immigrazione, come la gestiscono per dire a Lampedusa è diverso come ci siamo a Gasti, senza entrare nel merito, sono proprio cose diverse, no? però se invece ragioniamo come le micro comunità possono darsi una mano per mantenersi, allora su quella roba lì si cambia proprio il paradigma, cioè ti dimentichi pure che sia la migrazione, poi addirittura ti vengono a dire ma perché alcuni sindaci, perché non aprite una casa d'accoglienza anche da noi, che ne avremmo bisogno, ah ne hai bisogno allora vuoi, allora vuoi che hai bisogno di qualcosa che ti serve, che è utile. L'impressione è che c'è stata una narrazione feroce, la sciagura sono stati i decreti sicurezza di Salvini, con tutto il discorso delle ONG, le multe a chi serve la gente in mare, ma il fatto di togliere soprattutto la protezione umanitaria, che è un titolo di soggiorno di quelli fondamentali, abbassare la diaria nei centri di prima accoglienza gestiti relativamente al ministro degli interni, e tutta una serie di cantiveri annesse connesse. Ma adesso, per fortuna quella brutta parentesi è stata chiusa, si ritorna al sistema precedente, ci sono parecchi sindaci, soprattutto più piccoli sono le realtà, più piccoli vuol dire che più problemi sono di prossimità, e tu devi risolverli, Milano non è un problema. Se sei il sindaco che è di un paese di 600-700 mila abitanti, vai al bar e la gente ti rompe le mani, quella strada lì è collata quando è che la apri, ti dice ma io non ho più i soldi per lo scavatore, come faccio? Il giorno dei morti il cimitero è uno schifo, ma io non posso più chiamare nessuno, queste piccole cose, non pensare a cose gigantesche, la scuola che sta chiudendo e via dicendo. Allora il sindaco deve dare le risposte, dove le trova? Confrontandosi, parlando con altri colleghi, altri amministratori, magari del paese di fianco, o del consorzio dei comuni vicini, ma però li hai visto? Ho fatto l'accoglienza, sono sei ragazzi, a turno due ruotano e lavorano col comune, non possiamo farlo anche noi, e così la prossimità è una delle chiavi più semplici per risolvere i problemi. La narrazione, soprattutto sull'immigrazione, non è mai fedele rispetto a quello che c'è. Noi abbiamo iniziato nel 2011, come ti dicevo, in un piccolo paese perché volevamo chiudere la scuola, e abbiamo preso, all'epoca Mimmo Lucano Oriane, pochi lo conoscevano, noi siamo andati a parlare con questo sindaco, che tra l'altro abita di fronte a casa mia, cioè siamo a due chilometri di distanza, c'è proprio i posti lì con tutti i miei territori, e dice, ma guarda che là c'è un piccolo paese in Calabria che ha iniziato a ospitare, altra gente è andata alla scuola aperta, lo abbiamo fatto. Contestualmente ci salva la scuola, c'era un po' di gente testona, hanno fatto una raccolta firme, addirittura chiedendo un referendum per bloccare l'accoglienza, 273 firme raccolte su 600 abitanti, e si l'ha così messo di traverso, dicono io questo referendum non lo faccio perché non voglio assolutamente neanche discutere di questa cosa, costerebbe troppo stare nei miei poteri, decidere o no di fare l'accoglienza, se non volete, a fine mandato cambierete, poi a fine mandato le cose sono andate bene, tra l'altro è venuta tra i tre, cioè questa piccola accoglienza, è venuto il vescovo, questo paese, un paese anonimo grazie a questa accoglienza è diventato qualcosa di molto accattivante, non piaceva questa cosa, le feste di paese, la scuola mista e via dicendo. Finita quella roba lì, quel comune, il sindaco poi ha perso probabilmente per queste insure e sono arrivate altre amministrazioni comunali, ma in piccoli paesi non è che c'è troppa, tutte le liste civiche e così, ancora adesso non li continuiamo a fare l'accoglienza, nessun sindaco ha detto lo troviamo, ma sarebbe anche proprio in maniera stupida dire ai 10-15 concittadini che hanno dei appartamenti che noi affittiamo regolarmente, dicono vabbè ti tolgo 15 affitti, magari, magari anche no, perché poi quelle case lì non è che c'è la Fcoda, sono state anche case che poi diventano rudere in mezzo a un paese, invece un paese abitato ha una sua... non abbiamo mai avuto... abbiamo avuto richieste anche da altri sindaci di poter andare, ma non è cosa automatico, perché c'è una relatoria nazionale, c'è un po' di burocrazia, non è che ognuno si inventa la propria cosa, però siamo partiti nel 2011, ti ripeto, con un piccolo paesino, poi dopo aderito il comune di Asti e poi Settima e Chiusano d'Asti questi paesi del nostro Stato si sono consorziati e hanno fatto una rete di cinque comuni che lavorano ormai da sei anni proprio come area e tramite l'accoglienza stanno facendo... fanno tuttora dei programmi anche di sviluppo locale congiunti che sono partiti dal fatto che si sono messi insieme rispetto all'accoglienza. Adesso non so per dire, quando questi modelli si radicano diventano veramente forti. Stiamo facendo una mappatura degli anziani in situazioni di vulnerabilità, disagio, non malati, però persone sole e tramite le ragazze che abbiamo in accoglienza in quelle zone lì insieme stiamo studiando di fargli una formazione per assistente familiare, perciò le ragazze assunte in accoglienza vanno poi dopo settimanalmente a fare sette, otto, dieci ore a casa di questi anziani o anziani o famiglie che normalmente non hanno più retto tutto quello per essere accoglienza e i sindaci stanno organizzando quello. Danno per scontato che c'è l'accoglienza e stanno ragionando di assistenza sociale. Non per gli immigrati, ma per gli anziani del territorio. Un altro piccolo sindaco con un po' di buonsenso senza avere un chiodolo nella testa che guarda quella roba lì, c'era gli stessi problemi o altre soluzioni o magari copia o vuole doppiare quel modello. Cioè non ci sono altre soluzioni. Noi abbiamo iniziato a occuparci di educazione negli ultimi sette, otto, dieci anni non so perché le ragazze arrivano un'oltre sono incinta, hanno i bambini piccoli perciò siamo stati fra i primi in Italia sulla tratta avere le case d'accoglienza per la mamma bambino e quello ci ha portato prima a ragionare sul fatto di guardare la mamma durante il parto poi dopo dare una mano ai bambini le mamme poi dopo in qualche maniera le guardi anche nello percorso di generitorialità allora hanno magari bisogno di qualche supporto bisogna confrontarsi cioè una donna africana gestisce ed educa i figli in maniera molto diversa da come è concepito la noia e poco per volta abbiamo iniziato a capire che dovremmo occuparci anche dell'educazione di questi figli e soprattutto accompagnamento della generitorialità di queste donne. 5 anni fa abbiamo aperto la prima casa proprio per madre e bambini con un settimo madre e bambini fatta apposta con tutti gli spazi con gli educatori e via dicendo e abbiamo ragionato sempre anche con l'agenzia educativa e con l'università per capire un pochettino anche di tracciare, sperimentare validare i nostri modelli o imparare soprattutto e poi il passaggio successivo è stato quello che ormai sono un anno e mezzo che abbiamo acquisito questo lago a Castellero un bel lago con una bella area e abbiamo deciso di fare un palco per delle biodiversità sociali e ambientali fa da sé che in un posto del genere l'area di gioco educativa, esperienziale, outdoor education tutte queste cose qua lì c'è veramente un altro spazio ci sono gli animali, il lago, il palco, il palco gioco didattico è diventata una cosa importante su cui stiamo investendo tanto e abbiamo già anche proposto dei laboratori delle giornate laboratoriali per bambini che vengono con gli educatori che fanno un po' la filosofia è quella dell'outdoor education però sempre di più quello che stiamo facendo è fare queste attività di outdoor ma con e insieme anche con e perché e perché no con i bambini, con i figli delle nostre comunità perciò tu fai l'outdoor education fai il laboratorio, l'asilo nel bosco vengono i bambini ma ci vanno anche i bambini che sono i figli delle nostre comunità perciò lì si sta mischiando sono contesti interessanti perché c'hai una filosofia educativa ma c'hai un contesto di riferimento che non è quello per cui quella filosofia è stata pensata perciò ci sono degli innesti, degli intrecci molto interessanti e penso che sempre di più stiamo lavorando su questo un figlio va nel bosco a vedere la composizione del suolo e dei vermi ma lo fa con un bambino della Somalia con una bambina nigeriana o con un cosovaro e lì nelle biodiversità ci si mischia ancora di più e sicuramente, io sono convinto di questo quello che fino adesso è stato tracciato in queste metodologie educative non ha mai preso in considerazione fattimamente la biodiversità sociale ed è lì che bisogna lavorare tanto almeno fondamentalmente questa storia dell'outdoor education è vero che è molto democratica ma poi nei fatti non è democraticamente accessibile a me noi stiamo lavorando visto che le creiamo i nostri spazi che sono di outdoor ma anche di accoglienza per noi diventa normale portare lì perciò l'osservazione di queste cose secondo me potrebbe anche nel tempo portare anche a una narrazione un po' diversa che magari toglie ma aggiunge anche perché no? fare tutto là per tutto questo non è... bisogna contestualizzare sicuramente ma io ho visto che tante cose che facciamo magari hanno nomi diversi ma poi la sostanza è la stessa non ci sono... c'è sicuramente un'osservazione che abbiamo sempre fatto qua piccole dimensioni in realtà sono un vantaggio uno perché ti conosci due... più piccoli va e soprattutto nei piccoli paesi non è la pressione della politica nazionale ritorniamo a quello che dicevamo prima la politica è una narrazione poi c'è il problema reale la prossimità ha un buon senso un piccolo sindaco deve dare una risposta non può menarla a fine elettorale il grande sindaco prima di fare un passo deve pensare che la narrazione non gli fa perdere voti e via dicendo perciò... allora c'è molto più spontaneismo c'è anche molto più... cioè per assurdo nei piccoli posti più facile se ti viene un'idea puoi provarla e secondo me questa è la risorsa costa dell'era interna quella che ormai la buona accoglienza è l'accoglienza diffusa cioè piccoli inutili spaccarsi nei territori ormai è una regola se guardiamo adesso qua l'Atlante Spar del 2019 830 comuni in Italia che fanno accoglienza se guardi c'è proprio... è bello no? perché si vede proprio la macchia di Veropaldo tutte... e sono quasi tutti i comuni che stanno intorno... da 0 a 5000 quello è la... perciò è... è un sistema ultra... ultra diffuso e... sta in piedi noi abbiamo un piccolo paese dove facciamo accoglienza dove... cioè l'anno scorso la proloco del paese stiamo parlando paesi da... 400 abitanti eh? proprio... una collina, un bricco comuni arroccati fanno una festa del paese e un giorno della festa del paese la dedicano all'accoglienza e chiamano il Coromo che è un gruppo nato negli ultimi anni di profughi richiedenti asilo quasi tutti africani che cantano le canzoni in diretto piemontese tu hai un paese che nella sua festa del paese dedica un giorno e paga un gruppo per fare quella roba di dentro allora vuol dire sei proprio dentro la comunità dove le madri vengono a portare i bambini a giocare nel nostro cortile con i nostri bambini dove c'è tutta una serie di cose vabbè e il comune promuove le attività anzi ci chiede di collaborare sempre di più questa è la prossimità perché ci conoscono poi fanno le elezioni politiche e in quel paese vuoi vedere la Lega la Lega e Salvini ma è la stessa gente non è che c'è non è che tu hai quella gente lì che sdoppia no ma i miei sono buoni ma perché c'hai una narrazione tossica dei talebani dell'isis degli stupatroidi tutte queste cose che non esistono e uno pensa che quella roba lì arriva tu c'hai già tu non te ne accorgi che porti i tuoi nipoti lì cioè da quello che è sbarcato l'anno scorso a Lampedusa che tu adesso vorresti affondare tu gli stai portando il tuo nipote a giocarlo lì e lo lasci con quel bambino con quella madre magari lo lasci pure lì 3-4 ore tanto lo guardano loro che sono bravi poi vai nell'urna e c'hai la testa rispetto a quello che ti raccontano e voti diversamente è un'Italia disunta questa nella testa di queste persone c'è tutta una logica tanto io dico i nostri sono buoni è sempre qualcosa d'altro è sempre l'altro per fatica ho fatto autonomi operai e collettivi perciò c'è sempre stata già una grossa attenzione alle dinamiche sociali ho fatto tante attività nelle periferie e sono stato uno dei primi con altri amici negli anni primi anni 90 a occuparci di immigrazione avevano fatto l'accogliamento migrante astigiano l'abbiamo messo insieme io e un marocchino senegalese perciò alla fine occupandosi di immigrazione vi dicendo è nata a un certo punto è avuto anche un po' l'occasione e anche la necessità di darsi gli strumenti che non era solo la carita sui collettivi un'associazione riconosciuta potrebbe essere quella l'abbiamo fatta e da lì si è sviluppata e mi sembra che sia una buona continuità che uno parte da un contesto di periferia e lavori su quelle che sono le le disuguaglianze le diversità e l'emergenza sociale e ritorni non più in periferia ma nei piccoli paesi a lavorare su quelle che sono le disuguaglianze le diversità e l'emergenza sociale Basaglia è quello che ha iniziato a pensare che che non esistono barriere fra vulnerabilità che si può lavorare su una matrice comune che è quella della divisione del benessere senza pensare che tu sei psichiatrico e tu sei ragazza madre e tu invece sei anziano e tu invece sei un cancro e tu sei un bigotto religioso e tu vieni dall'Afghanistan Basaglia ci ha messi in testa un po' una livella che noi le vulnerabilità vanno mischiate e affrontate insieme e poi magari così non sono neanche più vulnerabilità un genio Basaglia e poi ho anche un'idea molto buona di questo è che è un esempio di vita nel momento io lo vedo anche con alcuni miei colleghi che hanno lavorato nella psichiatria nel momento in cui uno si mette in pace con se stesso e sa convivere con la psichiatria con gli psichiatrici si dà una normalità e riesce a organizzare la sua quotidianità la sua vita con la malattia mentale con la follia intorno a te e la interiorizza che è una cosa normale tu nella vita non hai più problemi per niente ti sei fatto proprio alla basetta sei la persona perfetta perché ti sei già messo in pace con tutte le condizioni più avverse che puoi avere convivere con la follia in una maniera proattiva vuol dire che ce la farai sempre hai già vinto di partenza e Basaglia ci insegna quella roba lì è stata torridissima di quelle proprio che si moriva a 35 gradi così associazione Alzheimer di Asti hanno un centro di urno dovevano fare le attività con i malati di Alzheimer e hanno il centro di urno e dovevano l'attività questo centro di urno ha un piccolo cortile mi immagino buttano con la ringhiera il cemento, l'asfalto questi poveri vecchietti già malati di Alzheimer sono lì a passare questi pomeriggi ci trovi, ci trovi l'educatore che lavora lì ci conosciamo un po' tutti appunto la prossimità di città piccole una ballona altra dice ma via Villa Quaglina che siete in campagna avete dello spazio cazzo abbiamo uno è una villa padronale abbiamo un giardino con dei cedri libanesi alti 40 metri cioè è veramente un palco bellissimo certo portateli su a prendere del fresco e non prendere i malati di Alzheimer questi vecchietti li portano anche lì in un campo profughi per fargli stare bene che tutti scappano dal campo profughi vengono passano una bella giornata al fresco tra l'altro in un posto ottimo perché? perché i profughi non sono giudicanti quel gruppo lì è venuto è stato un bel pomeriggio al fresco si sono ristorati bene ci sono chiesto se potevano tornare era così abbiamo fatto che settimanalmente tutti i giorni di grande attività non stavano più al centro di urno ma venivano al centro e poi dopo lì c'è iniziato a fare un po' di interazione hanno fatto un po' di percorso con altre cose c'è stata anche interazione con i ragazzi e hanno iniziato anche a fermarsi anche a pranzo perciò nella mensa del centro di accoglienza c'erano poi dopo i malati di Alzheimer che si fermavano e poi sono arrivate le famiglie a dire però ma possiamo organizzare una cena anche per noi e scopriamo che c'è tutto quanto un discorso molto interessante che è il disagio delle famiglie dei familiari dei malati di Alzheimer noi non possiamo mai andare una volta fuori perché uno in contesto giudicante due si muovono fanno casino invece qua sono tranquilli nessuno dice niente anche noi famiglie possiamo venire sederci al tavolo e fare una serata in pizzeria o mangiare una cosa e da lì è nata questa cosa e perché gli interventi assiditi con gli animali perché la sede poi dopo Villa Quaglina è diventata la centro accoglienza porforia anche poi dopo la sede ufficiale dell'associazione Alzheimer di Asti facciamo le cose congiuntamente e quando prendiamo il lago Stella Castellero che ha 15 anni che ha 15 asini l'asino per l'orinoterapia è un ottimo strumento terapeutico anche per bambini autistici con disturbi dell'apprendimento ma anche per malattie di Alzheimer allora abbiamo riportato questa cosa e lì nell'idea di benessere e outdoor education e via dicendo c'è anche questa parte curativa che utilizziamo gli asini una delle cose divertenti chi è che mantiene cura gli asini e affianca il terapeuta sono i rifugiati che lavorano in stalla e che diventano poi dopo la cioè lo strumento di benessere del tuo familiare anche lì dici dove vado a star bene vado in un centro ad accoglienza proprio perché voglio star bene e gli sto bene e mi curo chi l'avrebbe mai detto è la chiave perfetta questa cosa qua quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi non puoi fermi